Ciao a tutti, dall'ultimo book haul ho accumulato una quantità impressionante di libri e quindi devo assolutamente fare un book haul nuovo perché vi devo aggiornare, sono veramente veramente tanti. Non tutti li ho comprati, alcuni mi sono stati regalati, altri li ho trovati al mercatino dell'usato, quindi sono sempre un braccino corto, non è che è braccino corto, è che non posso spendere un sacco di soldi in libri, però io conosco, so dove andare a prendere libri, dove andare a dare a fare occasioni e quindi me la cavo, me la cavo. Iniziamo subito, allora il primo libro mi è stato regalato da una ragazza che è venuta al mio incontro di Torino quando ero andato con Cristina Kiperi alla Mondadori, mi ha fermato e mi ha regalato questo perché ha detto che lei segue con passione i fumaclassici assieme a sua madre e quindi mi ha donato, gentilmente io la ringrazio infinitamente, i falò dell'autunno di Ren Nemirovski perché nella rubrica dei fumaclassici ho parlato anche di Come le mosche d'autunno di Ren Nemirovski e quindi un regalo apprezzatissimo. Il secondo libro che ho comprato l'ho comprato perché mi ha intrigato sin da subito, appena ne ho sentito parlare, appena ho visto la copertina, si parla di amnesia, mi sembra un libro molto divertente, è Tutto quello che non ricordo di Jonas Assen Kiemiri, autore svedese che sta riscuotendo un ottimo successo sia di critica che di pubblico e non vedo l'ora di leggerlo. Poi al Book Pride, di cui vi ho parlato nei preferiti del mese, vi ho mostrato l'intervista con l'editore di Perborea, ho comprato un solo libro, quindi sono stato bravissimo, ed è Thomas Bernard, Cemento, da tempo in memore voglio leggere questo libro, l'ho trovato in questa edizione ES, SE perché è la stessa casa editrice ma in base che il libro sia trasgre o meno si chiama ES o SE perché ES è dedicato alla biblioteca dell'Eros, ES e altre tipologie di titoli, in versione economica tascabile, l'ho pagata pochissimo perché l'ho trovata in una bancarella che vendeva libri usati a prezzi stracciati e quindi io sono impazzito appena l'ho visto e ho detto deve essere mio. Poi, altro libro trovato a prezzo irrisorio è Toxic di Algrimur Elgason, vi ho già parlato dell'autore per quanto riguarda 101 Reykjavik, questo libro invece è una sorta di noir stranissimo ambientato tra New York, i Balcani, Reykjavik, poi non lo so perché non l'ho ancora letto, fatto sta che a me 101 Reykjavik è piaciuto da pazzi, volevo leggere qualcos'altro di Elgason, ho trovato questo romanzo che tra l'altro porta al titolo di una nota canzone di Britney, a un prezzo veramente esiguo perché appunto è un'edizione ISBN, non so se sapete che la ISBN ha chiuso i battenti quindi tutti i libri in produzione sono finiti nei reminders a dei prezzi bassissimi e lo potete trovare tranquillamente a 4, 5, 3 euro, come ho fatto io tra l'altro. Vi dirò, appena leggerò vi dirò. Questo libro l'ho letto e ho fatto anche una recensione, non so se vedrete prima la recensione a questo book haul perché l'ho già caricata in privato, devo solo sbloccarla in base alla mia programmazione trasgri che varia di giorno in giorno, comunque ve lo consiglio perché è un libro molto divertente che fa riflettere sul precariato ed è Il mondo deve sapere di Michela Murgia, il mio primo approccio con un'autrice che ho scoperto piacermi molto 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 consigliato. Questo invece l'ho preso gratis ed è Isaac Asimov, Your Robot, un classicone della fantascienza che io mi sono accapparrato gratuitamente perché la mia biblioteca a volte a volte regala i libri, nel senso i libri che sono in più oppure gli utenti che decidono di disfarsi dei libri è una sorta di book crossing, quindi tu puoi prendere i libri omaggio, io ho trovato questo e me lo sono accapparrato. Poi, per colpa di Julie, vi linko sotto il video che abbiamo fatto assieme, la sfida, indovina la trama partendo dalla copertina, ho comprato due dei suoi libri perché mi hanno intrigato tantissimo e sono Drive-In, la trilogia di Lansdale, che ho scoperto essere un horror grottesco, assurdo, e Anima di Muawad, che è un thriller, una sorta di giallo, raccontato attraverso il punto di vista di alcuni animali e questa cosa l'ho trovata veramente figa e non potevo non leggerlo. Ovviamente lo leggerò, io non posso aspettare l'estate perché di solito questi libri li tengo per l'estate, ma secondo me entrambi saranno tra le prossime letture. Per l'estate invece mi tengo la trilogia di Knausgaard, in realtà ce ne sono sei, però ho preso i primi tre usciti in economica e sono La morte del padre, Un uomo innamorato e L'isola dell'infanzia. Knausgaard, non so se lo sapete, è un autore norvegese che ha fatto molto discutere perché ha deciso di scrivere la propria autobiografia un po' alla Proust, ispirandosi alla Recherche du Temps Perdue, ha scritto questa sua saga personale attraverso descrizioni minuziose, attraverso l'esaltazione del tempo morto e pare che sia una figata pazzesca, io devo leggerlo assolutamente e quindi punto a leggere tutti e sei i libri appena escono. Mi parto dai primi tre ovviamente. Poi qua abbiamo degli Iperborea, ebbene sì. Allora, autore finlandese che volevo conoscere perché amo, ho scoperto di amare Pasilinna e quindi volevo leggere qualcos'altro che fosse più o meno inerente perché io adoro l'umorismo finnico, tipico dei film di Kaurismaki, queste cose qui, quell'umorismo sottile che va per sottrazione e quindi ho puntato sulla legge di natura di Kari Otakainen e il fatto che Pasilinna lo consigli nella quarta di copertina mi ha spinto ad accaparrarmelo. E poi Pasilinna. Di Pasilinna tre libri che sono L'Allegra Apocalisse, che deve essere divertentissimo, Il mondo che si ribella agli uomini, poi la copertina con le case che volano. Ho detto wowone, devo leggerlo. Poi il suo must, io ho letto per ora solo piccoli sui cd tra amici, però il suo must è L'anno della lepre, che sarà il prossimo che leggerò, anche perché io frequento un club di lettura della biblioteca e ho obbligato tutti a scegliere questo libro in modo che potessi leggerlo, quindi L'anno della lepre. E I veleni della dolce Linnea, che ho comprato perché già il fatto che parli di una vecchietta che si ribella a dei ladruncoli che vogliono soffiarle gli averi, vogliono soffiarle l'eredità, lei si ribella, anarchia portami via, e quindi ho detto no, non posso non amarlo, e quindi lo leggerò. Questo l'ho letto, ve ne ho anche parlato nei preferiti del mese, ne parlerò meglio in un'ultima lettura, Angeli dell'universo di Gunn Monson, il film è nettamente superiore, ma anche il libro merita una lettura, una sorta di studio della follia, della schizofrenia, dal punto di vista di un folle. Quindi è una lettura pesante e complessa, ma allo stesso tempo interessantissima, lirica, poetica, ve lo consiglio. Poi, Rigenesi, che a quanto ho capito è una cosa stranissima. Rigenesi di Sven Agematsen è una cosa stranissima, pare che sia una sorta di cult della letteratura svedese che unisce i sentimenti umani a una ricerca di tipo scientifico. E a me queste cose piacciono da pazzi. Spero in qualcosa in stile Bergman, non lo so. Mi dava quell'impressione lì, quindi ho detto buttiamoci. Poi, una roba che mi sa di ipnotico, di crepuscolare, è questa autrice svedese che è Bergliot Obekaf ed è il rogo. Il rogo, che deve essere una sorta di... rimanda anche alle saghe, a pelle. Poi, ovviamente, magari leggendolo sarà tutta altra roba. Però, sono fiducioso. Ultimi tre libri, quindi non ci abbiamo messo tantissimo, anche perché è stato molto scattante. Comunque, ve le faccio vedere due assieme perché sono dello stesso autore. Targei Vesas, che è un autore cardine della letteratura norvegese. Gli uccelli, che è il suo capolavoro, che è stato ristampato per la collana luci dell'Iperborea. e il castello di ghiaccio. Gli uccelli, non potevo non leggerlo, l'ho trovato a un prezzo ridicolo. Ho detto, devo averlo, perché è considerato il suo capolavoro. Ma devo ammettere che tra i due mi ispira di più questo. Perché fa riferimento, cioè, le varie recensioni e blog fanno riferimento a Picnic Adhanging Rock. e quindi quella situazione misteriosa, situazioni misteriose, legate alla natura, me l'hanno veramente reso affascinante. E voglio entrare nel mondo di quest'autore che pare che sia surreale, molto legato all'allegoria, al simbolismo. e secondo me mi piacerà da impazzire. Però vediamo, nel senso, dobbiamo essere sempre fiduciosi e mai farci troppe, troppi pensieri su cosa sarà un libro, perché altrimenti rischiamo di essere delusi e invece è bello avere delle sorprese. L'ultimo libro, Erlend Loe, Volvo. Vi ho parlato di quest'autore per quanto riguarda Naive Super, nei preferiti del mese. Ve ne parlerò meglio in un prossimo lettore. Volvo, lo volevo leggere perché è un altro romanzo che, come Naive Super, sembra puntare molto sull'umorismo. E già sfogliandolo si capisce che, per quanto non sia sperimentale come Naive Super, che era quasi tutto strutturato su elenchi, comunque già a vedere a pelle i capitoli così brevi, secchi, ci sono delle immagini, mi dà l'impressione di quell'umorismo costruito anche proprio a livello strutturale del libro. E quindi è un autore che a me è piaciuto molto, Erlend Loe, perché sfrutta un umorismo legato alla situazione esistenziale dell'uomo ed è una cosa che a me affascina molto. E quindi volevo leggere qualcos'altro di suo. Incredibilmente ce l'ho fatta in dieci minuti, ragazzi. Vi ho mostrato tutti i miei nuovi arrivi nella libreria. Per un po'. BASTA! 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 Voi ci credete? Io no. Vabbè. Fatemi sapere se avete comprato un libro di recente. Leggereste qualcuno di libri che ho accaparrato, che mi sono accaparrato? Qualcosa avete letto vi è piaciuto, non vi è piaciuto? Fatemelo sapere. Io vi saluto, vi mando un bacione, alla prossima. Ciao, ciao! Ciao!